e ciao a tutti ragazzi io sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati sul mio mondo vanilla di minecraft era tanto che non portavo un video di qua cioè che bello che bello non me lo ricordavo manco il mondo da quanto è che non ci vengo allora dove erano rimasti ah sì qua innanzitutto mi sono spariti dei semi maledetti fammi dove cazzo sono finiti ci sono anni che non vengo qua non è cresciuto un cazzo va bene oh qua c'è la la targhetta i nostri cani però non potevo farci niente perché non c'avevo mai abbastanza cibo e rischiavo di farle morire di fame cioè mi ha dispiaciuto un sacco di veri di sopprimere eeeh vabbè dai basta con la sta tristezza su sono morti e scherzo basta allora forse mi servivano le tele di ragno allora devo farmi l'arco quindi le tele di ragno sono tipo obbligatorio perché se lo aggiusto la la cesta delle ceste eeeh no me ne servono tre di le tele di ragno dove cazzo lo trovo un ragno in pieno giorno lo dovete spiegare allora in questo episodio tenteremo di costruirci l'arco nelle badwars nelle skywars c'ho sempre l'arco anche perché se non non combino nulla non c'è una arma venilla scusatemi ma non è proprio giusto perciò direi che è arrivato il momento di andarsi a prendere un ragno e farsi le tele di ragno farsi l'arco io esattamente dove lo dove lo trovo un ragno in pieno giorno lo dovete assolutamente spiegare dove cazzo trovo un ragno in pieno giorno cioè conto di notte che spavolano anche dal buco del culo ma poi di giorno anche se non li uccidi spariscono li trovi non li trovi più cioè quindi boh non so dove posso trovare adesso un ragno in pieno giorno forse quello giù no mi sa che è un albero che palle forse miniera ma ci ho delle torce non ho delle torce quindi se vado in miniera non ne esco mai più che vita di merda ah ma io ce l'ho i simi da piantare non è che sono scemo ma io sono scemo dentro oggi oh ma prima mi sono incazzato perché non trovavo i semi questi quali sono quelli che c'ho in mano adesso quali sono quali sono vabbè mentre ragazzi state seguendo il canale di un youtuber rincoglioni da massimi cioè boh forse è questo che dove è finita casa dove sono finito no magari ti potrei mandare di qua ragazzi se poi mi sono pure perso ah no ecco la lì da casa uff mi è venuto un colpo se comunque la torre della cera è funzionale perchè ehm scusatemi di sonno è funzionale perchè è funzionale ma è bruttissima veramente bruttissima certo l'ho costruita con i materiali delle badwars quindi alla fine non poteva venire sta grande roba però potevo farla un po' più carina certo se avessi aspettato la lana avrei aspettato la morte una morte mia e ora mi spiegate perchè cazzo sono entrato in casa se devo piantare di qua porco zeus dammi ecco qua oh finalmente l'ho piantato tra l'altro non ho capito ma c'è sono veramente un cretino che avevo riuscito finalmente a far venire notte mi sono perso un attimo a scrivere quindi tipo ho perso il filo del discorso perciò non continuo la discorso che avevo appena iniziato bene avanti questo è lo youtuber che vi sta cercando oh comunque si mi ricordo che sto ui 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 e ui 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 un cazzo ui 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 che cazzo più di più di più di più devo fare in modo che quel creeper non mi insegua ma che ragno si oh bravo ragnetto bravo vieni qua che ti picchio dammi la terra di ragno bravo ma che bravo quel ragnetto che è venuto da me apposta per darmi la terra di ragno Ma quanto posso amarlo, ma è un ragno? Zero, però... Ok, mi lamentavo di non avercela, invece ce l'avevo nell'inventario a portata di mano. Niente, eh... Cosa stavo dicendo? Sì, ce l'ho piazzata, bella. Ah, c'ho quattro tele di ragno. Bella, e... In Trial Arco, mi ricordo... Può essere al contrario, cioè... Tele di ragno qua... Ehm... C'è un problema di fondo... Forse uno stichettino via, forse via questo, via questo... Sì, ragazzi, faccio una ricerca e torno, eh? Che cerco su... come craftare l'arco su Minecraft, perché... Solo i veri nabbi cercano su Google... E chi è un vero nabbo? Ah, ma stavo sbagliando... TUTO! Tipo il fatto che... Questi vanno qua... E invece sono questi che vanno per così... Oh, eccolo l'arco! Che be... Ma che bene adesso, finalmente abbiamo l'arco, possiamo fare il culo ai creeper. Quante frecce c'ho però, aspetta... Ho solo cinque frecce, quindi magari l'arco per il momento potrei anche decidere di non usarlo. Intendo di uccidere anche l'enderman, vai! Andy, muori, 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 muo... Non ti ho detto vivi! Oh, ma quando muore questo stronzo gigante? Non muore mai! Ma... Ma... Ma non muore mai sto coso! Tanto l'enderman in acqua non ci va. Oh! E' malato un enderpearl! Vent'anni di combattimento per un enderpearl! Cioè, raga, veramente, boh... Io non so più che pensare. Minecraft... Fate... Fate i bilanciamenti peggio di Clash Royale. Devo dire che Clash Royale fanno dei bilanciamenti che alle volte fanno veramente pena. Gran cavaliere! Bene, raga, siamo riusciti a farci finalmente sto cazzo di arco. Oppure, guadagnato un enderpearl da questa missione, però nel frattempo ci sta rimettendo la vita. E... Detto questo, quindi... Ehm... Tutta l'armatura è a posto. C'ho... La cassa delle carasse si c'è. La merda si c'è. Rottenflash magari la mettiamo qua. Grazie. Anche la spada in stone che non so quanto me la possa fare in questo momento. Legna. Terra. Tutto! Tutto via! Tutto via! Via, via, via! Fuori! Fuori dai... Fuori dai balle! Forza! Fuori dai balle! Grande. Detto questo, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento. Mi piace. Iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se no, come al solito, andate a stalkerare i vari social e commento in ogni video. Trovate nella descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Andetra a tutti! E! E!